Abbiamo avvisato i vigili del fuoco. Stanno arrivando i vigili del fuoco? Ora sono tutte impegnate le squadre. Quindi appena si liberano, io gli ho detto un po'. Ho chiamato. Se ne ho scopo i colpi, è più. Lo stai riusciti, lo stai finando. Lo stai chiamato. ora sta arrivando sulla strada pure e poi attorno a storia non ha capito c'è una persona che si ha chiamato già con lui si ho trovato la vigilante io ho visto il fumo da Rutigliano pensavo fosse nel territorio di Rutigliano invece qui siamo nel territorio di Mola questo è Pozzo Vivo? si questa è la rischiarica comunale o la rischiarica Lombardi? cos'è Lombardi o la comunale? si perchè è da Lombardi si stanno già arrivando i pupieri vero? la vigilante l'ho incontrato prima e mi ha detto che hanno chiamato i pupieri hanno chiamato già comunque se vogliamo fare un altro colpo di telefono lo facciamo anche fare ma questi pneumatici sono stati buttati così abusivamente si vengono abusivamente da qua e buttano perchè non li vogliono pagare a smaltire ma chi? le officine le officine così sbattiscono i copertoni esalti e poi magari gli danno pure fuoco ma tu del comune sei? no no della Lombardi ah della Lombardi ah della Lombardi che cazzo butta so no ti puoi anche fermare con la mamma è troppo è troppo il calore è troppo è pieno fuoco è pieno fuoco ma io le vado a prendere la palla e l'acqua per ottenire ehi fino alla venuta a dire è bello che mi chiede alla fine a presto a presto a presto